Andrea Sarnari, schiacciatore della Etruria Volley Corciano, questa sera vincente alla Pala Pellini contro il Cusperugia 3-0, un risultato nettissimo che rilancia prepotentemente le quotazioni della tua squadra. Sì, abbiamo giocato bene, bel risultato 3-0, anche con gli infortuni di mezzo, quindi fiducioso per il futuro. Sicuramente defezioni da una parte e dall'altra in questa partita importante, però significa che la panchina può dare una mano. È stato lo spirito di tutti questi anni, la squadra. Com'è tornare al Pala Pellini da avversario ancora per una volta? Quando ci si allenava con i guanti, la sciarpa e il cappuccio, è bello, tanti amici. Nella Corciano addirittura quattro gli ex in campo, c'eri te, c'era Fabrizio Canalicchio, Micheli e anche Gianluca Menetti, sicuramente una sensazione particolare, una voglia in più di ben figurare. Eh sì, non stimolo in più. Come vedi adesso prosegue il campionato per l'Etruria Volley? Molto fiducioso. Dove può arrivare questo Corciano? Cioè gli avversari che stanno prendendo il giro. Dove può arrivare questo Corciano? Delle zone alte, sicuramente. Ci possiamo fare, ci possiamo sbilanciare? No. Meglio di no. Porta sfortuna. Grazie.